Sono 89 i contagi Covid oggi in Abruzzo e quanto emerso dall'analisi di 3.397 tamponi molecolari per un tasso di positività del 2,6%, l'indice RT è intorno allo 0,95. Il più giovane tra i contagiati ha due anni, il più anziano 91. Di questi, 31 sono residenti in provincia dell'Aquila, 28 in quella di Chieti, 21 nel Pescarese e 10 nel Terramano. Il bilancio dei pazienti deceduti registra tre nuovi casi e sale a 2.450. Considerando anche i 334 guariti, attualmente in Abruzzo sono 7.010 positivi accertati, 249 in meno rispetto a ieri. 235 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 20 sono quelli in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 6.755 positivi, 234 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.